Siete cocciuti, eh? Se provate ad essere un pochino più ragionevoli, evitereste un male di guai! Onda! Eeeh! 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 Oh! Fermo! Ehi! Eeeh! Smetti la Goku! Vieni qui! Presto! Mister Satan? Ascolta! I tuoi figli sono controllati da una creatura malvagia della razza Zufuru che si fa chiamare Pepe! Hai sentito che ha detto? Eh! Eh? Non è possibile! Tutti gli abitanti nella Terra sono sotto il suo controllo! Pepe! Quell'essere spregevole!